Monografia su Aristotele. Aristotele, 384 a 322 avanti Cristo, è stato un filosofo e scienziato dell'antica Grecia, allievo di Platone e maestro di Alessandro Magno. La sua opera ha avuto un impatto profondo e duraturo su praticamente ogni campo del sapere umano, dalla filosofia e la logica alla biologia e alla politica. Questa monografia esplora la vita di Aristotele, le sue principali opere e le sue idee, non che l'influenza che ha avuto e continua ad avere nel pensiero filosofico e scientifico. Vita e formazione. Aristotele nacque a Stagira, una città della Macedonia, nel 384 avanti Ciristo. Suo padre, Nicomaco, era medico di corte del re Aminta II, il che probabilmente influenzò il giovane Aristotele, indirizzandolo verso un interesse per le scienze naturali. A 17 anni, Aristotele si trasferì ad Atene per studiare all'Accademia di Platone, dove rimase per circa 20 anni. Nonostante il suo profondo rispetto per Platone, Aristotele sviluppò successivamente una visione filosofica differente, soprattutto riguardo alla teoria delle idee di Platone. Dopo la morte di Platone, Aristotele lasciò Atene e viaggiò attraverso il mondo greco e l'Asia minore. Durante questo periodo, acquisì una vasta conoscenza in vari campi. Fu invitato a diventare il tutore di Alessandro Magno, una posizione che mantenne fino all'Avanti Cristo. Alla morte di Alessandro, Aristotele tornò ad Atene e fondò la sua scuola, il liceo, dove insegnò e scrisse fino alla sua morte nel 322 avanti Cristo. Opere e contributi filosofici. Aristotele scrisse una vasta gamma di opere, molte delle quali ci sono pervenute in forma di manoscritti. Le sue opere possono essere suddivise in tre categorie principali, la logica, la filosofia naturale e la filosofia pratica. Logica. Aristotele è famoso per aver sistematizzato la logica in una forma che rimase dominante fino all'era moderna. Il suo eorganone è una raccolta di testi che trattano delle inferenze logiche e del sillogismo, un metodo di ragionamento deduttivo. La sua concezione della logica era basata su una forma di ragionamento deduttivo che cercava di ottenere conclusioni a partire da premesse date. Filosofia naturale. Aristotele ha contribuito notevolmente alla biologia e alla scienza naturale. Nei suoi scritti come Storia degli animali e Fisiologia, Aristotele studiò e classificò numerosi organismi e fenomeni naturali, stabilendo i principi della scienza empirica. La sua opera influenzò la biologia per secoli e le sue osservazioni rimangono fondamentali. Filosofia pratica. Le sue opere sulla filosofia pratica includono l'etica e la politica. In Etica Nicomachea, Aristotele sviluppa la sua teoria dell'etica basata sulla virtù, suggerendo che la virtù è un mezzo per raggiungere la felicità, eudaimonia, e che una vita virtuosa è quella che realizza il fine ultimo dell'uomo. Nella sua opera epolitica, Aristotele esplora la natura delle città-stato e dei governi, analizzando vari modelli politici e proponendo la sua idea di una epolitia, una forma di governo costituzionale equilibrato. Influenza e legato. L'influenza di Aristotele è stata immensa e pervasiva. La sua filosofia è stata studiata, commentata e ampliata da molti pensatori successivi, dai filosofi scolastici medievali come Tommaso d'Aquino, che integrò le idee aristoteliche con la teologia cristiana, agli studiosi del Rinascimento e agli filosofi moderni. Inoltre, la sua metodologia scientifica e il suo approccio empirico hanno gettato le basi per lo sviluppo della scienza moderna. Le sue idee sull'etica e sulla politica continuano a essere oggetto di studio e dibattito, dimostrando la loro rilevanza anche nei contesti contemporanei. Conclusione. Aristotele rappresenta una figura centrale nel panorama filosofico e scientifico dell'antichità. La sua vasta produzione intellettuale ha avuto un impatto duraturo, non solo nel contesto della filosofia classica, ma anche nella formazione della scienza, della logica e delle scienze sociali. Le sue idee e metodologie continuano a influenzare profondamente il pensiero occidentale, rendendolo una figura di rilevante importanza nella storia del pensiero umano.